Francesco Cascio in corsa sindaco di Palermo via libera da Andrea Omineo segretario cittadino di Forza Italia. Vertenza Covid-19, martedì prossimo una fiaccolata indetta dei sindacati con la presenza dei lavoratori davanti alla cattedrale di Palermo a sostegno degli addetti al call center a rischio licenziamento. Precari Covid-19 in fermento per ottenere una proroga del contratto fino al 31 dicembre nella speranza di essere stabilizzati a tempo indeterminato. Entra nel vivo il concorso per i centri per l'impiego in Sicilia. Definite le date delle prime prove scritte previste per il 2 maggio. Ritorna dal 20 al 22 maggio alla Villa Margherita di Trapani, manifestazione dedicata al mondo dell'intrattenimento e dei videogiochi. Ospite Cristina D'Avena, l'icona delle canzoni dei cartoni animati. Ben ritrovati alla seconda edizione di Media News di sabato 16 aprile. Apriamo con le amministrative. Francesco Cascio in corsa per sindaco di Palermo, via libera da Andrea Mineo, segretario cittadino di Forza Italia. Vediamo. Sembra ormai ufficializzata la candidatura a sindaco di Palermo di Francesco Cascio, il palermitano, sostenuto anche da Gianfranco Miciche, sarà l'esponente dei forzisti per la corsa a Palazzo delle Aquile. La sua candidatura, nelle scorse settimane, aveva provocato malumori tra gli azzurri all'Arts. Adesso, però, è Andrea Mineo, segretario cittadino di Forza Italia, a sciogliere qualsiasi riserva. Francesco Cascio è il candidato di tutta Forza Italia. Il suo nome è stato ampiamente condiviso a tutto il partito e sarà in grado di aggregare, e ha incalzato Mineo. Forza Italia, il primo partito è il centrodestra a Palermo e in Sicilia e Cascio rappresenta la candidatura migliore che gli azzurri potessero esprimere, autorevole e dispessore. Cascio saprà dare al capoluogo siciliano il buon governo che merita, dopo il disastro lasciato al centrosinistra. Abbiamo atteso con garbo l'ufficializzazione della sua candidatura. Ora è il momento di andare avanti con Cascio sindaco del centrodestra e con liste forti, in cui trovano posto tanti amministratori, professionisti seri, preparati, portatori sani di consenso e che negli anni hanno lavorato sul territorio, ha concluso Mineo. Resta al momento il dato di fatto che la coalizione centrodestra non è riuscita a chiudere la quadra su un candidato unico per rappresentare l'intera coalizione. Il nome di Cascio si va ad aggiungere a quello di Carolina Varchi, di Fratelli d'Italia e a Roberto Lagalla fuori dai partiti, ma rappresentante è l'area di centrodestra, nome che inizialmente sembrava potesse essere la scelta vincente sulla quale i partiti avrebbero potuto convergere. E infine l'autonomista Totto Lentini e Francesca Donato. E passiamo alla cronaca. Guardia di finanza Catania, contrasto al narcotraffico, sequestrato mezzo quintale di stupefacente, arrestati due responsabili. I finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno sequestrato complessivamente 47 kg tra marijuana, hashisce e cocaina ed hanno tratto in arresto due uomini di 40 e 35 anni residenti a Catania. L'attività repressiva è iniziata a seguito dell'intensificazione nell'imminenza delle festività pasquali dei servizi antidroga nell'ambito della provincia etnea, condotte dalle unità specializzate del nucleo di polizia economico-finanziare di Catania. In particolare le attività di controllo, a seguito del potenziamento dell'attività informativa sul territorio, si sono concentrate in primo luogo su un deposito oggetto di plurime segnalazioni in merito a movimentazioni sospette, soprattutto in orari notturni. Sono stati così disposti diversi servizi di osservazione e controllo, all'esito dei quali, raccolti i preliminari elementi di riscontro, è stato effettuato un intervento repressivo. Immediatamente identificato un soggetto 40 anni originario di Catania, proprietario dell'immobile. Le conseguenti attività di perquisizione hanno consentito così di rinvenire circa 29 kg di sostanze stupefacenti e nel dettaglio 22,5 kg di marijuana di tipo amnesia ad elevato effetto stupefacente, 3,8 kg di hashish e 2,4 kg di cocaina, oltre ad un bilancino e a strumenti per confezionare la droga. Dall'esame degli elementi rinvenuti durante le perquisizioni è emerso che la droga sottoposta a sequestro era stata inviata dalla Spagna su alcuni troll e spediti tramite corrieri verso plurimi indirizzi della provincia catanese. Le attività si sono così concentrate su un'ulteriore spedizione in arriva a Catania. Le conseguenti attività di controllo hanno permesso di intercettare la spedizione e sequestrare 19 kg di marijuana e trarre in arresto il destinatario della spedizione. Entrambi i soggetti ritenuti responsabili sono stati arrestati in flagranza di reato. L'arresto, su richiesta della procura della Repubblica di Catania, è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari presso il locale tribunale. Voltiamo pagina. Martedì prossimo una fiaccolata indetta dai sindacati con la presenza dei lavoratori davanti alla cattedrale di Palermo a sostegno dell'avvertenza degli addetti al call center Covician. A rischio 543 posti di lavoro. Una fiaccolata a sostegno dell'avvertenza Covician per la commessa ITA è stata organizzata a Palermo davanti alla cattedrale per martedì 19 aprile alle 19. Dalle segreterie territoriali SLC-CGL, Fistel-CISL, Wilcom-Wheel e UGL-TLC. La protesta delle lavoratrici e dei lavoratori Covician e Almaviva non si arresta. La vigilia è l'incontro ministeriale, si legge in una nota dei sindacati. Le segreterie territoriali organizzeranno per martedì 19 alle 19 con concentramento in corso Vittoria Emanuele davanti alla cattedrale di Palermo un corteo illuminato da fiaccole. Il mancato rispetto è l'accordo di clausola sociale sottoscritto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il 21 ottobre 2021, dopo sei mesi, mette a rischio il licenziamento 543 lavoratrici e lavoratori palermitani. Ci mobilitiamo ancora una volta, prosegue la nota, per difendere i diritti e la dignità umana per il rispetto degli accordi sottoscritti e per la corretta applicazione delle clausole sociali. Continuiamo a denunciare con forza che è inaccettabile e paradossale che proprio ITA, società che al 100% risulta essere proprietà dello Stato, avvia gare al massimo ribasso che eludono le leggi italiane. Ci appelliamo alla solidarietà e all'attiva partecipazione al corteo da parte di tutte le cittadine e cittadini palermitani per la salvaguardia del lavoro e dell'occupazione nel nostro territorio. Inoltre chiediamo il massimo coinvolgimento delle istituzioni locali e nazionali, della stampa e dei media per la risoluzione dell'avvertenza che rischia di trasformarsi in un massacro sociale, creando disoccupazione e disperazione per 543 famiglie palermitane. Precari Covid-19 in fermento per ottenere una proroga del contratto fino al 31 dicembre nella speranza di essere stabilizzati a tempo indeterminato. Oggi ci troviamo in una condizione paradossale nella quale tutto questo gruppo di lavoratori rischia di andare a casa, rischia di non essere confermato. Oggi ci troviamo purtroppo in quella che ci spiace dover definire una giungla nell'ambito della quale ciascuno purtroppo si regola come vuole. Il nostro assessorato ha fatto ben due circolari, la seconda delle quelle esplicative, immaginando il recupero di questo personale, la valorizzazione del servizio è fatto all'interno delle strutture, onde non disperdere le professionalità acquisite e purtroppo la non univocità oggi ci ha comportato che nell'ambito della regione o addirittura anche nell'ambito della stessa provincia, l'azienda ospedaliere e da una parte le aziende sanitarie dall'altra utilizzano dei parametri differenti per quanto riguarda sia i rinnovi sia soprattutto quelle che sono le rimodulazioni orarie del personale stesso. È stata chiesta una ricognizione che è finalizzata ovviamente a cercare di garantire il posto per tutti e questa è in itinere, però nell'emore tutto questo personale non lo vorremmo disperdere, ci piacerebbe l'istituzione di una cabina di regia unica che da una parte garantisse un percorso per tutti, dall'altra lo adeguasse a quello che il reale fabbisogno che abbiamo sul territorio. E qua arriviamo al problema più spinoso, perché se di valorizzazione e di risorse parliamo dobbiamo immaginare che il sistema di premialità, ovvero non dimentichiamo, noi non chiediamo una stabilizzazione, sarebbe il populismo e sarebbe disonesto nei confronti del personale. Noi sappiamo che all'interno della pubblica amministrazione si entra attraverso un pubblico e regolare concorso ed è quello che noi invochiamo ed auspichiamo, del resto anche l'assessorato doto delle linguine per questo, però nell'ambito delle procedure concorsuali non possiamo non immaginare un sistema che valorizzi le professionalità acquisite, per questo noi non possiamo immaginare che un punteggio, butto lì numeri tanto per dire, un punteggio valga 0,1 a Catania e valga 0,5 a Palermo e 0,7 a Ragusea. Noi chiediamo una cabina di regia unica nella quale a parità di lavoro e a parità di condizioni ciascuno possa avere la possibilità di avere un punteggio e una qualifica unica, questo per garantire le pari opportunità a chi lavora. Emergenza a casa e sgomberi a Palermo, criticità messa più volte in evidenza dal Sunia, per la quale il sindacato degli inquilini ha più volte chiesto l'intervento del Prefetto e della Giunta Comunale. Questa situazione attuale ha colto l'attenzione di moltissimi enti, associazioni, sindacati non soltanto il Sunia che io rappresento, ma anche singole persone, famiglie che sono interessati e vogliono sapere come poter essere utile. Questo sentimento che non è stato percepito dall'amministrazione comunale, ma è percepito dai cittadini, dai singoli, dalle associazioni, non percepito dall'amministrazione comunale, dalla Giunta di Governo della città, non percepito nemmeno dagli enti rappresentativi statali, nonostante avessimo già suonato l'allarme da tempo. Noi il 21 marzo era l'ennesima volta in cui organizziamo un presidio di fronte alla Prefettura in via Cavour e diciamo guardate che noi stiamo andando incontro ad una situazione abbastanza delicata. Occorre creare un tavolo tecnico di consultazione anche con i sindacati e fare una programmazione, dare un minimo di visione di come intervenire. Noi ribadiamo ancora il concetto primario, qualora siano proprio indispensabili gli sgomberi devono avvenire da casa a casa. Se non hanno una soluzione non capisco perché si sono candidati a governare questa città. Ci sono delle liste lunghissime per poter accedere a un immobile? Sono delle liste che devono essere aggiornate, anche questo l'abbiamo detto ripetutamente all'amministrazione comunale, ma l'amministrazione comunale dà tutta l'attenzione ad altre materie piuttosto che alla gente che vive sulla propria pelle i drammi. Una graduatoria fatta nel 2004 non è per nulla attuale, non corrisponde alle esigenze attuali e va subito e immediatamente rinnovata, aggiornata. Così come anche la graduatoria dell'emergenza abitativa che qualche anno fa erano 800 le famiglie iscritte, negli ultimi cinque anni sono arrivati ad oltre 2500 famiglie. È stata già sgomberata una famiglia con un minore nei giorni scorsi, c'è la minaccia di altri sgomberi che verranno effettuati a poco o si comprende che tutto il disponibile di immobili degli enti statali e inclusi i beni confiscati devono andare a rispondere alle esigenze vitali di queste famiglie altrimenti è una lottizzazione. Controlli straordinari della Polizia di Stato nei quartieri di Borgo Vecchio, Falso Miele e Alcassaro nell'ambito della parazione Alto Impatto che nelle scorse settimane ha visto protagoniste altre zone della città coinvolte nei maggiori controlli. Operazione Alto Impatto, continuazione di controllo del territorio e della Polizia di Stato per la prevenzione di reati e la sicurezza nei quartieri cittadini popolari scelti secondo il criterio della rotazione e relazione a indici di illegalità reale e percepita dalla collettività. Nel dettaglio, nel corso della settimana scorsa, sotto la lente di ingrandimento dei poliziotti e dei commissariati pubblica sicurezza, rettostazione, libertà e centro, della squadra mobbi e del reparto prevenzione e crimine coadiuvati dalla Polizia Municipale, sono stati quartieri di Falso Miele, Borgo Vecchio e del Cassaro. L'attività presidiaria ha esercitato il controllo del territorio non solo attraverso gli strumenti dei posti di controllo e gli accessi ispettivi a numerose attività commerciali di zona, finalizzati anche alla riverifica del rispetto alla normativa pandemica, ma anche ricorrendo al controllo di arrestati domiciliari e soggetti gravati da misure di prevenzione o altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria. In due di questi ultimi casi, nella zona di Falso Miele, sono state riscontrate delle irregolarità. È stato verificato che due soggetti sottoposti all'affidamento in prova ai servizi sociali hanno trasgredito, uno, la violazione dell'obbligo di permanenza presso la propria abitazione e l'altro perché deteneva una modica quantità di stupefacente nel proprio domicilio. Nei quartieri, anche controlli amministrativi, a fronte di una decina di esercizi commerciali controllati, tre sono risultati irregolari, una frigitoria e un bar di Falso Miele, dove sono state riscontrate carenze strutturali e igieniche, oltre che l'assenza di scia per la vendita al dettaglio e un pub nella zona della Champagneria, dove è stata registrata la disposizione non autorizzata su strada di sedi e tavolini. Complessivamente sono state identificate 486 persone, di cui 151 con precedenti, 156 arrestati domiciliari controllati, 224 i mezzi, 15 sanzioni al codice della strada e 6 sequestri amministrativi. Rientriamo in studio, entra nel vivo il concorso per i centri per l'impiego in Sicilia. Definite le date delle prime prove scritte previste per il 2 maggio per il reclutamento di 487 istruttori amministrativi. Si comincia con le prove scritte del concorso per selezionare 176 unità di personale a tempo pieno e determinato da inquadrare nella categoria C, profilo di istruttore amministrativo contabile. Le selezioni si svolgeranno dal 2 al 6 maggio e saranno articolate in 10 sessioni, 2 al giorno con convocazione dei candidati alle 10, sessione mattutina, e alle ore 15, sessione pomeridiana. Le prove si svolgeranno in tre sedi che coprono rispettivamente la Sicilia occidentale, a Palermo nella tenso struttura di violenza di Scalea, la Sicilia orientale al palaghiaccio di Catania e il sud-est dell'isola al centro fiera del sud di Siracusa. A differenza dei passati concorsi pubblici, questa volta è stata inserita una nuova sede nella Sicilia occidentale per consentire ai residenti nelle province di Palermo, Agrigento e Trapani di spostarsi più facilmente per sostenere le prove. La mole di domande pervenute in tutto 194.000 comporterà inevitabilmente un iter più lungo di selezione. La prova scritta digitale consisterà in un questionario a risposta multipla costituito da 60 domande sul diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto regionale e ordinamento della regione siciliana, contabilità pubblica, ordinamento finanziario e contabile delle regioni, lingua inglese ed informatica. I candidati risultati idonei saranno sottoposti successivamente ad una valutazione dei titoli di studio e di servizio posseduti in base a quanto dichiarato nella domanda di ammissione al concorso. Nel dettaglio per i centri per l'impiego della Sicilia sono a concorso 1.024 posti di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Di questi, 487 diplomati da inserire nei profili professionali di categoria C, suddivisi in 176 istruttori amministrativi contabili e 311 istruttori operatori del mercato del lavoro. Per questa categoria è prevista una sola prova scritta, consistente nella somministrazione di 60 quesiti nelle materie di esame. Per i soli candidati che avranno superato la prova si procederà alla valutazione dei titoli di studio legalmente riconosciuti e dei titoli di servizio. E ancora 537 laureati da inserire nei profili professionali di categoria D, 119 specialisti amministrativi contabili, 344 specialisti del mercato e dei servizi del lavoro, 37 specialisti informatici e statistici, 37 analisti del mercato. Per questi profili è prevista una prova preselettiva per titoli. Per i soli candidati che avranno superato la prova si procederà alla valutazione dei titoli di servizio. Alla selezione del personale dei centri per l'impiego si aggiungono anche i concorsi per 100 laureati per il ricambio generazionale nell'amministrazione regionale e per 46 agenti del corpo forestale della regione siciliana. Da martedì 19 aprile il parcheggio Cavalcavia San Ranieri di Messina sarà a pagamento. A occuparsi della gestione l'azienda Trasporti di Messina. Nato il posteggio del Cavalcavia come posteggio di interscambio come avviene in tutte le città europee, come avviene a Catania, come avviene a Palermo. Interscambio dei bus extraurbani, dei bus turistici in modo da avere un hub naturale sopra la stazione centrale collegata con un ascensore che consentiva agli utenti di poter interscambiare il servizio gommato con quello ferroviario a poche centinaia di metri anche dall'hub marittimo per il traghettamento sullo stretto. Niente di tutto questo. Il progetto è rimasto solo sulla carta. Adesso la scelta che non comprendiamo come Will Trasporti di trasformare questo posteggio da posteggio di interscambio all'ennesimo posteggio a pagamento. Altre strisce blu, altri balzelli da pagare per i cittadini ma soprattutto un'ennesima bestemmia in termini di mobilità perché è l'ennesimo posteggio a pagamento nel centro città lì dove la vettura privata non dovrebbe entrare. E' a poche centinaia di metri dal posteggio Cavallotti, multipiano, spesso mezzo vuoto. Non se ne capisce la ragione. Di certo non si è mossi nel senso della mobilità sostenibile. Se da una parte si fa una zona traffico limitato evitando l'ingresso delle auto vetture ecco che è l'ennesima dimostrazione che quel parcheggio così non avrebbe senso. Consentitemi, le idee sulla mobilità sostenibile in questa città sono molto confuse. C'è stata una serie di inaugurazioni di posteggi chiamati di interscambio ma che di interscambio non sono perché sono posteggi spesso già preesistenti e al centro cittadino. Non tutti sono vicini ai punti di interscambio che sono appunto il bus, i mezzi sullo stretto, e la stazione centrale. Ci si muove per continuare a riempire la terza città d'Italia per traffico gommato delle auto vetture. Non si opera nel senso opposto, nell'incentivare invece, ma io direi quasi ad obbligare l'utilizzo del servizio pubblico. Abbiamo ancora una metroferrovia che a sud reclama vendetta perché non c'è alcuna integrazione con ATM. Io credo che in questi quattro anni si sia solo perso tempo e fatto tanta propaganda. Plessi e dismessi dell'ex complesso ospedaliero Vittorio Emanuele a Catania. Per oltre 12.000 metri quadrati saranno riconvertiti in spazi per la didattica, lo studio e come residenze universitarie. Il presidente della regione siciliana Nello Musumeci e il rettore dell'Università Etnea Francesco Priolo hanno firmato la convenzione con cui la regione cede all'Ateneo, incomodato d'uso gratuito per 40 anni, parte dello storico presidio sanitario di Via del Plebiscito. Abbiamo appena firmato una convenzione con il rettore dell'Università di Catania per destinare all'Ateneo una parte dell'ex ospedale Vittorio Emanuele. La parte centrale diventerà il Museo dell'Etna, un'altra ala diventerà la sede dei laboratori dell'Accademia di Belle Arti, altra parte della cubatura sarà destinata a residenza per gli studenti universitari. La stessa cosa facciamo con le edilizie sanitarie di altre città dell'Isera, penso a Messina, a Caltanissetta, a Ragrigento, penso a Palermo. Ecco, l'importante è non consumare nuovo suolo, ma riqualificare l'esistente e farli diventare luoghi di cultura, poli di attrazione. Io credo che anche attraverso queste scelte passi la buona politica e la buona amministrazione. E noi siamo su questa strada. Sagra dell'Agnello Pasquale di Favara, 24esima edizione. Il tema di quest'anno, culture, identità e sinergie locali. La DMO Distretto Turistico Valle dei Tempi è orgogliosamente presente a questa edizione della Sagra dell'Agnello Pasquale di Favara. Un anno di ripartenza per tante iniziative, ritorna anche la Sagra dell'Agnello Pasquale, che quest'anno è dedicata doverosamente alla pace, anche perché è un tema ovviamente assolutamente adatto a questa circostanza. Ed è una maniera per vivere questo periodo pasquale con un momento di riflessione, ma anche un momento di gusto e di promozione turistica, perché le nostre risorse, le nostre tradizioni, sono una grande opportunità. Noi siamo vicini a Favara, che sta facendo grandi sforzi, pur con tutte le difficoltà ben note, per ritornare a vivere quel momento di auge turistica che sicuramente merita. Oggi siamo presenti come Parco dello Stile di Vita Mediterraneo a Favara a celebrare questa grande tradizione dell'Agnello Pasquale che rientra pienamente all'interno del Parco dello Stile di Vita Mediterraneo. Il Parco è una grande aggregazione territoriale formata da oltre 106 amministrazioni della Sicilia centrale e altrettanti soggetti del partenariato pubblico, privato e sociale che si è messi insieme in aria vasta per valorizzare tutte quelle che sono le caratteristiche naturali di questo territorio. L'UNESCO riconosce e tutela per salvaguardare, per valorizzare lo stile di vita mediterraneo, la dieta mediterranea, che riunisce tanti elementi che sono tipici della nostra tradizione. E in particolar modo mi riferisco al cibo, alla convivialità, alle nostre relazioni, al nostro paesaggio, alla grande biodiversità. Noi come territorio, questa grande aggregazione, che significa non è altro che Sicilia, terra dello Stile di Vita Mediterraneo, valorizza proprio queste cose. Il Parco sta cercando di materializzarle attraverso delle azioni che facciano capire effettivamente nella vita concreta come è possibile, per esempio, valorizzare il cibo attraverso un sistema di cucina mediterranea che lo promuovano. O attraverso un sistema che valorizza i cammini e i sentieri, attraverso un sistema unico che unisce e che riunisce tutti questi camminamenti lenti che sono presenti in Sicilia. Quindi oggi siamo qui a celebrare questa grande esperienza, questa grande tradizione dell'agnello pasquale. Siamo contenti della presenza dei giovani, uochi dell'Istituto Alberghiero, che sono il presente e il futuro di questo territorio. Al via a Bivona, paese in provincia di Agrigento, il progetto sperimentale di raccolta umido EcoBattia per le vie del centro con l'ausilio di Asinelli. EcoBattia è un progetto che parte in collaborazione con il comune di Bivona e con Bivona Ambiente. È un progetto che si occupa della raccolta differenziata in un quartiere storico di Bivona, che è proprio l'Abbatia dove sorge la vecchia chiesa madre con questo bellissimo portale Aero Bonorbanno. E con l'ausilio degli Asinelli, seguendo la buona prassi che già hanno utilizzato a Caccia del Bono, con cui abbiamo delle collaborazioni, questo progetto di raccolta differenziata dell'umido nasce a termine di un laboratorio che noi abbiamo realizzato all'interno delle comunità di educazione ambientale dove i nostri ospiti quotidianamente raccolgono la frazione umida per portarla in una casetta realizzata sempre con un altro progetto all'interno dell'associazione, una casetta del compost dove con l'ausilio dei lombrichi rossi della California viene trasformato in un osso. Per cui abbiamo creato questo circolo virtuoso con l'ausilio dell'Asinello che abbiamo introdotto nella comunità per attività socio-riabilitativi. Quindi alla fine di tutto questo progetto facciamo questo progetto sperimentale e vediamo che viene fuori. Il culmine diciamo di una serie di iniziative che abbiamo portato avanti come bivono ambiente e stiamo lavorando su una serie di iniziative legate all'umido perché è la frazione più difficoltosa sia nella raccolta che nel conferimento. Ritorna dal 20 al 22 maggio alla Villa Margherita di Trapani la manifestazione dedicata al mondo dell'intrattenimento e dei videogiochi Trapani Comics & Games. Ospite di quest'anno Cristina Davena l'icona delle canzoni dei cartoni animati. Un grande evento dedicato agli appassionati dei fumetti e dei videogiochi che si inserisce a pieno titolo nella mappa delle manifestazioni nazionali a tema comics più di impatto in tutta l'isola. Ritorna Trapani Comics & Games nella sua terza edizione dal 20 al 22 maggio a Villa Margherita a Trapani. L'evento quest'anno si presenta ancora più ricco rispetto alla scorsa edizione con spazi rinnovati e potenziati ed una nuova sezione che però al momento rimane top secret. Anche quest'anno dunque tanto divertimento grazie alle aree espositive alle aree dedicate ai giochi e ai videogiochi e all'area streaming ma soprattutto grazie ad un'area palco ricchissima di appuntamenti. Primo tra tutti quello con la cantante icona del mondo delle sigle TV Cristina D'Avena che venerdì 20 e sabato 21 maggio canterà i brani più noti del suo repertorio. Una notizia questa che suscita l'interesse delle generazioni degli anni 80 e 90 ma non solo. La locandina di quest'anno è come consuetudine un tributo al mondo degli eroi ma con la volontà di voler valorizzare la città realizzata dall'artista Marvel Simone Buonfantino. L'evento sta crescendo affermano gli organizzatori. Abbiamo notato infatti che ad avvicinarsi alla nostra manifestazione non sono soltanto gli affezionati ma anche i curiosi. Con il tempo abbiamo attirato l'interesse e la curiosità dei trapanesi ma anche di gente al di fuori dei confini locali. La scommessa è stata vinta e quello che anni fa appariva come un sogno sta raggiungendo proporzioni importanti. Il Trapani Comics punta in alto e presto sveleremo altri ospiti e nuove attrazioni di questa edizione. Sul sito www.trapanicomics.com sono disponibili abbonamenti e biglietti giornalieri per l'ingresso in fiera. Tre straordinarie giornate per entrare nel magico e colorato mondo del Trapani Comics. La manifestazione ideata e organizzata dai NerdAttack in collaborazione con il Luio musicale trapanese il comune di Trapani e aziende del territorio è tra gli appuntamenti più attesi dell'anno. E anche per oggi è tutto. Vi ringrazio per averci seguito. Vi do appuntamento ai prossimi notiziari di Media News. Grazie a tutti.